In questo momento di crisi di valori e di identità io sogno un'Italia che venga riconosciuta come un grande paese ricco di cultura, ricco di grandi valori e l'unica persona che per me lo rappresenta in questo momento è Emma Bonino Emma Bonino, Presidente della Repubblica Italiana, per cambiare, per mostrare un'Italia onesta, responsabile, di grande rispetto, di uguaglianza e di libertà Emma